Come è il Consorzio di Fileria? È assolutamente produttivo, anche il rapporto c'è stato negli anni con il Consorzio e con il Comieco rispetto alle possibilità che ci sono state date per una informazione e una sensibilizzazione rispetto a questo tema nelle scuole e fra i cittadini. Quindi noi abbiamo aperto alcune isole ecologiche, stiamo procedendo con l'apertura di altre isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata porta a porta ed è un tema sul quale abbiamo dato anche maggior imbulso con il nuovo corso anche in Anci con il Presidente De Caro, di cui io sono delegato per la parte che riguarda urbanistica e lavori pubblici. Grazie